Amici di Quarta Parete, mi sono trasferito qui al Teatro Anfitrione, zona San Sabba, e sono in compagnia di nuovo degli A4, ci siamo visti circa un annetto fa, per Virgilio Vallinferno per il comic-off della scorsa stagione. Mentre quest'anno, anzi questa sera, saranno in scena qui all'Anfitrione con What's Up, con l'H davanti, è aspirata, ho fatto bene? La pronuncia perfetta. Benissimo, quindi sono chat comiche di gruppo di E con gli A4, ovvero Alessia Di Fusco, Livia Massimi, Marco Giardina e Davide Di Meglio. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, grazie, grazie, hai compreso me. Dunque, allora, già dal titolo si dovrebbe quantomeno capire di cosa si parlerà, no, questa sera ragazzi? Ovvero, come sono cambiate le nostre abitudini a relazionarci con il nostro prossimo, no? Sono totalmente cambiate da quando sono entrati in maniera così anche pervasiva i social, no, Alessia? Esatto, esatto. Gioie e dolori. Gioie e dolori non se ne può fare più a meno, se non hai What's Up sei fuori dal mondo. Sei out. Esattamente. E What's Up è il nostro contenitore di questo spettacolo, quindi è quello che raccoglie tutti i nostri sketch, perché è un varietà comico questo in questo caso, rispetto a Virgirio Vall'Inferno, che era una parodia che abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno c'è proprio un varietà comico, quindi moltissimi sketch, moltissimi personaggi, e What's Up è il contenitore di tutto. E quindi è un filo conduttore in realtà, Livia? Sì, sì, è un filo conduttore, infatti abbiamo usato un termine excursus. Ex cursus, della comunicazione dai tempi della preistoria fino ad oggi, quindi come si è evoluta sempre però, come se fosse esistito da sempre What's Up, quindi semplificazione del linguaggio. Io immagino adesso, insomma, visto che si parlava dell'evoluzione del linguaggio, immagino di fare un salto proprio all'indietro nel tempo. Se ci fosse stato What's Up ai tempi della pietra, dell'età della pietra? Diciamo che noi parliamo di What's Up, cioè qual era What's Up ai tempi della pietra? Ecco, appunto. E da lì c'è tutto questo excursus. Questo excursus, però lui dice l'Emilio Leni, mi piace come dice Leni. No, io non lo mastico bene l'inglese, diceva qualcuno. Lei parla straniero, in italiano no, però straniero parla. E quindi vediamo nell'epoca della pietra, Colombo, Cristoforo Colombo, come si rapportava, qual era il mezzo di comunicazione, abbiamo il mezzo di comunicazione delle tribù indioamericane, la Grecia, insomma. Non l'ho messo in ordine cronologico, ma l'idea è quella. Perfetto. Quindi, insomma, questo lungo percorso lungo la storia dell'umanità e delle relazioni. Esattamente. Che poi io, basta andare indietro di qualche anno nel tempo, cioè io mi sono fermato a pensare, ma prima, come facevamo prima di WhatsApp? E c'erano quegli sms che pagavamo, quindi cercavamo di scrivere tutto in quell' sms e usciva tutto cf, 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 per non pagare. Tutto contratto. Tutto contratto. Non si capiva niente, infatti sembravo rumeno. In quel tempo era difficile proprio avere una relazione, ho avuto una relazione con una rumena. Era l'unica che mi capiva. Alessia, però voglio dire, questo poi ha avuto anche riverbile anche sul linguaggio di tutti i giorni. No, insomma, io lo dico anche nell'accezione negativa, questa cosa. Assolutamente. Non si parla più bene l'italiano, possiamo dirlo? Si mandano i vocali adesso, non è che si parla o si scrive, si mandano i vocali, quindi anziché telefonare e alzare il telefono si mandano i vocali, a volte lunghissimi, a volte cortissimi, infatti tra di noi anche c'è questa difficoltà del nostro gruppo, perché noi abbiamo un gruppo WhatsApp per le comunicazioni e ci mandiamo i vocali. Anche voi quindi non fate eccezione? No, assolutamente no. Livi, allora, insomma... A proposito dei vocali... No, appunto, perché mi accusano di mandare vocali troppo lunghi. Ah, sei prolissa? Sono prolissa, ma guarda te che mi tocca sentire. Quando tutti sentono parlare di escursus, è inevitabile che ha di accecio. Esatto, infatti. Tommaso Paradiso ci ha ispirato a lei per i dieci minuti di vocale. Bene, allora, Teatro Anfitrione da questa sera, 26 e domani, 27 ottobre, WhatsApp con l'H aspirata, naturalmente chat comiche di gruppo, di Eccoglia4, Alessia Di Fusco, Davide Di Meglio, Marco Giardina, Livio Massimi, supervisione artistica molto importante di Antonello Costa, supervisione Tessi, perché qua sono tutti i supervisori, Enrico Paris, Le Lucidi, Luigi Giannetti, le musiche anche vostre, addirittura anche i compositori. Sì, sì, proprio, va bene, perché non sappiamo suonare gli strumenti e allora abbiamo deciso di fare tutto senza strumenti e soprattutto abbiamo acquisito questo linguaggio comico senza strumenti, nel senso anche con Ulisse, che è stato il nostro primo spettacolo, in Virgilio non avevamo strumenti e quindi abbiamo deciso perché non fare un varietà senza strumenti e facendo tutto noi con la voce. È una grossa sfida perché si parla di tecnologia, quindi WhatsApp, e noi non usiamo la tecnologia, quindi la sfida vera e propria degli A4 è questa. Lo simoro, lo simoro. Se lei parla è sempre così difficile, infatti nessuno la capisce. Esatto, non la capiamo. Ok, vabbè, allora, la regia è di Anna Maria Michetti, anche lei nel gruppo WhatsApp immagino. Ah, ovviamente. Con lei abbiamo un altro gruppo A4, perché anche lei manda vocali molto lunghi e quindi vi ho detto uno per gruppo, uno per gruppo. Abbiamo un solo gruppo, abbiamo un solo gruppo, non è vero, due, tre, tre. Siete otto. Allora, considerazione finale, ma non era meglio quando avevamo il telefono con la rotella? Che tempi ragazzi, addirittura con la cabina, con il gettone, quanto rimpianto per quei tempi. Non era meglio quando non avevamo il telefono e mamma urlava dal balcone. Eh, pronto! Esatto, esatto, esatto. Ma la domanda principale è, senza WhatsApp adesso, come si fa? Ecco. E al pubblico l'ardo sentenza, ragazzi. Ragazzi, grazie di cuore. Grazie a voi. Buon in bocca al lupo e che questo escursus sia felice. Ciao. Ciao a tutti.